Ciao a tutti, sono Fabio Coppini e sono felicissimo di essere in questo studio in compagnia di Luigi Bruti, ideatore di questo meraviglioso strumento che è il Dexibel Vivo S7, perché sono felice di essere in questo studio, perché da qua tutto è nato, tutto è partito, tutto è stato progettato, i primi esperimenti, i primi campionamenti, quindi per me è un'emozione grandissima ed è un'ulteriore emozione perché questo è uno strumento che veramente mi ha conquistato, di cui sono innamorato e che mi ha accompagnato per tutto il tour di Laura Pausini nel 2016 e che spero, chiedo a Luigi, che questa collaborazione possa continuare. Dexibel Vivo S7, uno strumento che oltre ad avere una sonorità, a mio modo di vedere spettacolare, ha anche un'altra grande qualità, che è l'affidabilità. L'affidabilità è per noi musicisti fondamentale, specialmente quando si fanno tour mondiali come quello di Laura, durante i quali lo strumento è sottoposto a ogni tipo di stress, quindi climatico, pioggia, sole, caldo, freddo, viaggi, viaggi intercontinentali e su questo posso essere testimone che Dexibel non mi ha mai tradito e ogni sera ha sempre svolto il suo compito nella sua solita maniera, egregia. Vivo oltretutto si è dimostrato molto, molto versatile, proprio dal punto di vista sonoro, perché nel tour di Laura avevo parti principali di pianoforte, spesso solo piano e voce, o grandi intro dove la richiesta era proprio di un pianoforte vero. Mi viene in mente, per esempio, Sono solo nuvole. Altre volte invece mi era richiesto un suono di pianoforte, diciamo così, più aggressivo, perché in mezzo alla band, e quindi usavo questo tipo di sonorità. La cosa incredibile di Vivo è che io lo usavo dentro una scocca di pelle nera, con le borchie. E veramente la sensazione, anche visiva, era incredibile, perché sembrava veramente di sentire un suono di pianoforte a coda. Specialmente negli spazi che mi venivano concessi, tipo in intro in cui c'era veramente solo il piano protagonista, tipo l'intro di Vivimi. Per concludere ho un grande rammarico. il fatto di non aver potuto usare Vivo nelle mie precedenti esperienze lavorative, una su tutti quella con Lucio Dalla, al quale voglio dedicare questo. che grande suono! Sono molto molto contento, molto felice e anche un po' orgoglioso di aver portato un tour importante come quello di Laura, un tour mondiale, di aver dato un piccolo contributo con un nuovo prodotto che però è stato veramente molto molto apprezzato. un grande saluto a tutti, ciao!